Buonasera a tutti amici della famiglia Mundial, quest'oggi siamo con il responsabile della segreteria del Mundial Football Club, Vincenzo Panico, anzitutto buonasera. Buonasera. E per prima cosa ci racconti qualcosa del suo percorso, del mondo dello sport in generale? Io faccio calcio da sempre, ho cominciato con il calciatore, allenatore, poi a un certo punto ho deciso di dedicarmi a quella che è la parte più calda del calcio, anche se è più nascosta, perché comunque la segreteria è l'ambito dove viene creato tutto e dove da qui parte tutto, anche i risultati sportivi alla fine, perché se c'è una buona organizzazione di segreteria sicuramente anche i risultati sportivi arrivano. Questo è un po' il percorso, poi sono state varie società, poi ho sposato la Mundial già da tre anni a questa parte, il rapporto con la proprietà è sempre fantastico, a livello familiare, devo dire una cosa su questo punto di vista, che forse è una delle poche società direttantistiche che sono nate negli ultimi tempi, quindi comunque dopo la pandemia o a cavallo della pandemia, dove hanno capito veramente il ruolo importante della segreteria. Infatti qui all'interno di questa società ci sono stati scontri sicuramente anche costruttivi che però permettono adesso di avere un qualcosa di importante proprio a livello di segreteria, proprio perché la proprietà punta molto sulla segreteria, a differenza di altre società più blasonate che comunque la mettono in secondo piano, dove io ripeto per me rimane il cuore, veramente si dice, è soltanto un modo di dire il cuore pulsante della società, nella realtà è così, poi purtroppo nella pratica per altri presidenti non lo è. Quali sono le categorie e come vi interfacciate nel rapporto con gli atleti, nell'organizzazione dal lunedì a pala domenica, poi quando ci sono le partite? Allora il lavoro più importante la segreteria lo fa la mattina, a discapito di quello che possa sembrare, dove c'è tutta una serie di organizzazioni, quindi l'organizzazione gare, i tesseramenti, il controllo dei tesseramenti, tutta una serie di cose, mentre il pomeriggio c'è un rapporto più diretto con le famiglie, considera che la Mondi ha 600 famiglie da gestire tra qui San Giorgio e il Polo della Russica, per cui è un lavoro importante, è un lavoro massiccio, un lavoro fatto proprio di organizzazione, ripeto, su questo la proprietà ti dà carta bianca per poter lavorare in maniera proprio diretta, anche perché noi abbiamo a che fare anche con tanti genitori, problematiche, genitori, quindi il pomeriggio è il lavoro più effettivamente esterno, mentre il lavoro grosso io personalmente lo svolgo la mattina, rapporti con la federazione, preparazione delle partite, tutto questo. Poi noi i veri segretari sportivi si appassionano anche alle gare, quindi ogni tanto stanno a vedere pure la partita, seguono anche i ragazzi, hanno un rapporto un po' con tutti quanti, allenatori, dirigenti, presidenti, è il cuore, chiamiamolo il cuore proprio della società, dove oltre alla segretaria io ci metto anche il magazziniere, cioè in questa struttura, perché comunque è un altro ruolo importante che purtroppo viene sempre messo in secondo piano. Lo dico perché è la verità, in questa società non è così, non è così perché c'è proprio attenzione in queste cose, molta. La struttura quindi interna di una società, quella che non si vede diciamo. Quella che non si vede, bravissimo. E invece qual è il rapporto con quelle che sono le parti civili in generale, il rapporto con la comunità e quanto è importante una figura come quella di una società direttantistica sportiva? Beh, la società direttantistica, specialmente in queste zone, San Giorgio, la Rustica, sono zone un po' particolari, dove però l'aggregazione e lo sport fa sì che fa avvicinare tante famiglie allo sport e noi ci interfacciamo, organizziamo anche delle cose, anche all'interno dello stesso posto dove siamo noi, qui in l'oratorio, oppure alla Rustica, proprio per avere sempre un rapporto diretto con le famiglie. Non è facile perché gestire le famiglie, come dicevo prima, è molto difficile, chi lavora in un modo, chi lavora in un altro, però a volte le famiglie non si rendono conto del lavoro grande che c'è dietro, però ecco comunque il rapporto poi alla fine, io qui, perlomeno qui in questa zona ho un rapporto bellissimo con tutti, di là anche la Rustica, per cui cerco di dividermi un po' di qua un po' di là, anche se io maggiormente il lavoro lo faccio più da lontano, perché ripeto, sto dietro le quinte, quindi lavoro dietro le quinte.